Lezione di oggi è la tutela delle campagne pubblicitarie, è una lezione abbastanza breve perché come vedremo le norme che vi devo far vedere sono poche, però essendo voi dei creativi che molto probabilmente andranno a lavorare nel mondo della pubblicità, o quantomeno parte di voi è interessante sapere che cosa si può fare per tutelare una campagna pubblicitaria. In una campagna pubblicitaria in realtà c'è una parte che è comunque tutelata dal diritto d'autore, quindi la parte creativa di progettazione grafica, software che sia, musicale, se c'è una parte musicale o videografica, se c'è del video, quello è indubbiamente comunque un'opera dell'ingegno e va sotto l'ambito del diritto d'autore classico, come l'abbiamo già più volte approfondito. Però in alcuni casi la campagna pubblicitaria, come dire, il suo punto di forza è nell'idea, cioè nella efficacia semantica e comunicativa che magari ha a volte uno slogan oppure una battuta fatta da uno dei personaggi dello spot, oppure un'idea grafica all'interno di un cartellone pubblicitario e via dicendo. Quindi quando la forza sta più nell'idea e nel messaggio che nella forma espressiva, il diritto d'autore è debole come strumento, l'abbiamo imparata questa cosa. Cioè il diritto d'autore non agisce sulle idee creative in sé, agisce sulle opere. Però a volte quando voi andate a presentare un progetto di campagna pubblicitaria per un'agenzia o un programma televisivo, che ne so, un giornale, a volte voi andate a parlare di un prototipo, cioè presentate un'idea che è ancora astratta, che non è stata ancora davvero estrinsecata sotto forma di opera creativa. E allora lì siete esposti perché voi avete giustamente paura che raccontando come dovrebbe essere questa campagna pubblicitaria, come volete, come secondo voi il messaggio pubblicitario può diventare particolarmente efficace e innovativo, nel momento in cui lo raccontate vi esponete al rischio che poi il vostro interlocutore, il giornale, che ne so, l'agenzia di pubblicità, lo studio di grafica, prenda l'idea e la sviluppi lui senza rendervi conto di nulla. Ecco, su quello il diritto d'autore è debole, perché il diritto d'autore non vi tutela abbastanza, perché l'opera non è stata ancora realmente estrinsecata. uno degli strumenti che abbiamo, lo vedremo meglio quando parleremo di segreto aziendale, segreto industriale, è quello di ottenere segrete le informazioni, però in questo senso non ci aiuta, perché voi non potete tenere la segreta, perché voi state andando a parlare con uno che vi deve dare dei soldi, il quale non ve li darà mai se non gli spiegate di preciso cosa volete fare in questa campagna pubblicitaria. Quindi siete in un certo senso costretti a esporla, l'idea e a raccontare le informazioni di base. Quindi l'altro strumento è il contratto, l'altro strumento per tenere sotto chiave e tutelare questo tipo di informazioni è l'accordo di non divulgazione, il cosiddetto in inglese NDA, Non Disclosure Agreement. Però quello è un contratto, dovete avere dall'altra parte un interlocutore che accetta di sottoscriverlo e che si impegna all'interno di questo contratto a pagare una penale molto alta se lui indebitamente rivela o sfrutta questa idea che voi gli state andando a raccontare o questo prototipo che state presentando. Allora, onde evitare liti e diatribe tra i vari operatori del mondo della pubblicità si è creato questa forma di tutela ad hoc apposita per le campagne pubblicitarie in seno a quello che viene chiamato l'Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria. Finita l'introduzione, 5 minuti di introduzione per arrivare a dire che oggi parliamo di questo cioè l'Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria con l'abbreviazione IAP è, vedete, un'associazione riconosciuta che dal 1966 opera affinché la comunicazione commerciale sia onesta, veritiera e corretta, a tutela del pubblico, dei consumatori e delle imprese. Quindi è sostanzialmente un'associazione di categoria assimilabile a quella che abbiamo visto nella nostra prima parte del corso, la Adi, la IAP e via dicendo, che però tutela non il mondo dei progetti grafici, degli studi e dei professionisti della grafica o del design ma gli operatori della pubblicità, della comunicazione commerciale e dice che lo fa cioè l'obiettivo è quello di rendere la comunicazione commerciale onesta, veritiera e corretta e questo va a vantaggio sia del pubblico dei consumatori, sia delle imprese in senso lato cioè quindi sia delle imprese che si servono della comunicazione commerciale, cioè quindi i vostri clienti, ma anche delle imprese di pubblicità stesse perché diciamo avere uno strumento che, avere un ente che vigila su questo settore e evita che ci siano quelli che fanno i furbi sostanzialmente va a vantaggio di tutti, anche di coloro che sono in concorrenza tra loro. Quindi si tratta di un sistema di autoregolamentazione dell'intero settore pubblicitario, cioè imprese che investono, agenzie che la creano e mezzi che la diffondono, che diffondono la pubblicità che si impegna a rispettare le norme contenute nel cosiddetto codice di autodisciplina pubblicitaria cioè il codice di autodisciplina pubblicitaria è appunto una sorta di codice, di testo normativo autoimposto, cioè questi soggetti che hanno aderito all'OIAP, cioè quindi tutti i massimi soggetti che in Italia si occupano di comunicazione commerciale e di pubblicità aderiscono a questa associazione e sottoscrivono le norme di questo codice cioè accettano di sottostare le norme del codice di autodisciplina pubblicitaria ecco perché autodisciplina, perché non è stato approvato dal legislatore o da un ministero via dicendo, ma è autoimposto, cioè ci sono regole interne, un po' come lo statuto di un'associazione rispetto di quelli che abbiamo letto nella prima parte del corso e all'interno dell'OIAP ci sono due organi che presidiano al rispetto di queste norme uno è il giurì e l'altro il comitato di controllo il giurì è quello che vedete che giurì sta per giuria, sostanzialmente di organo giudicante il giurì dell'OIAP è l'organo composto da esperti indipendenti che giudica la comunicazione commerciale su domanda del comitato di controllo o delle aziende se il messaggio è in contrasto con le norme del codice, il messaggio pubblicitario si intende è in contrasto con le norme del codice, il giurì ne ordina la cessazione la decisione viene sempre pubblicata al suo sito dell'istituto dopo ho aperto già il sito, andiamo a vederlo, ce ne sono per tutti i gusti ogni tanto, vi invito, se avete curiosità di andare a leggere, alcune sono divertenti ogni tanto scoprite che degli spot pubblicitari che fino a ieri passavano e che dall'oggi al domani sono spariti non sono spariti perché l'azienda ha deciso di smettere di fare pubblicità su quel prodotto ma perché il giurì ha ordinato la cessazione un esempio era, scusate l'esempio un po' colorito però la prima versione dello spot di Rocco Siffredi che faceva la pubblicità delle patatine quello lì era stato sanzionato perché insomma c'era un riferimento a lui diceva a un certo punto che faceva un riferimento ed era diciamo troppo ammiccante, troppo malizioso per cui qualcuno si era sentito offeso e allora visto che tra le regole della comunicazione commerciale corretta c'è anche quello di non indugiare, non eccedere troppo cioè si può fare la battuta maliziosa lo vediamo sempre più spesso all'interno delle pubblicità ma non in modo diciamo becero eccessivo e lì era stato superato secondo il giurì un po' il limite il comitato di controllo dello IAP invece è l'organo preposto alla tutela del cittadino consumatore e agisce sia ad ufficio che su segnalazione del pubblico i consumatori quindi possono senza alcun onero economico segnalare le pubblicità ritenute scorrette compilando un modulo online sul sito dello IAP quindi vedete la differenza al giurì si rivolgono più che altro internamente i soggetti che si occupano di pubblicità vedete su domanda del comitato di controllo quindi l'altro organo che può raccogliere l'assegnazione degli utenti e demandarla poi al giurì per la decisione oppure direttamente dalle aziende che si occupano di questo settore quindi voi siete un'azienda che fa pubblicità e vedete che un vostro concorrente sta facendo una campagna pubblicitaria che ne so, viola un vostro cioè riprende palesemente uno slogan che avete sempre utilizzato voi questo è un classico esempio quindi una violazione che è una sorta di violazione di concorrenza le norme sulla concorrenza isleale parlerebbero di imitazione servile cioè il fatto che io mi avvantaggio dei meriti mi accaparro di meriti di un mio concorrente gli porto via uno slogan delle idee creative che sono palesemente sue ecco, se lo fai all'interno di un messaggio pubblicitario tu concorrente puoi segnalarlo e chiedere che il giurì intervenga invece per quanto riguarda il comitato di controllo a lui si possono rivolgere anche direttamente i consumatori o le associazioni dei consumatori come spesso succede cioè quando un messaggio pubblicitario viene interrotto e cessato soprattutto per questioni etiche e via dicendo c'è sempre di mezzo qualche associazione di consumatori associazioni di genitori come era successo anche in quel caso un caso era anche la pubblicità se vi ricordate della bambina fastidiosa che poi veniva ammazzata da un la famigliola che veniva ammazzata da un meteorite che cadeva su mentre loro facevano colazione a me sinceramente non faceva particolarmente orrore quella pubblicità perché secondo me insomma c'era uno sfondo goliardico abbastanza evidente che però per alcuni invece era ritenuta offensiva dell'immagine della famiglia del minore e via dicendo come vedete quello che vi sto facendo vedere fonte è wikipedia quindi siamo ad un livello abbastanza introduttivo cioè ho fatto proprio un copia e incolla pari pari dalla pagina di wikipedia sia qua che qua sulla voce che riguarda l'istituto di autosipulia pubblicitaria a me era giusto per darvi un'introduzione andiamo invece un po' più sul giuridico e lo facciamo attraverso questa norma che quindi è l'articolo che ci interessa l'articolo del codice del codice di autosipulia pubblicitaria che ci interessa per quanto riguarda la tutela dei progetti dei progetti creativi di pubblicità quindi siamo cioè è un po' una costola del copyright cioè è un come vi ho detto il copyright sulle campagne pubblicitarie è appunto parzialmente copyright classico la tutela del diritto d'autore è un classico diritto d'autore su le immagini la grafica il video la musica i testi che vengono utilizzati per la pubblicità però c'è anche questo livello ulteriore che ha radici non in una norma giuridica non in una norma di legge ma in una norma auto imposta che è un codice di autodisciplina e che ha questo articolo 43 è abbastanza lungo il codice di autodisciplina e ci sono tante norme su come deve essere fatta la pubblicità l'aspetto etico l'aspetto concorrenziale via dicendo questo è l'articolo che ci spiega cosa dovete fare voi che siete dei creativi della pubblicità per tutelare i vostri progetti quindi parliamo di cose che non sono ancora davvero diventate non si sono ancora davvero estrinsecate in forma creativa piena ma sono ancora dei progetti dice qualora in vista dell'eventuale futuro conferimento dell'incarico un utente richieda ad un'agenzia o a un professionista nell'ambito di una gara di una consultazione plurima o individuale perché questo è il rischio scusate così interrompo la lettura perché così cerchiamo di calarla direttamente nella realtà cioè spesso le agenzie di pubblicità dicono io a me serve una pubblicità che abbia queste caratteristiche e poi raccoglie la proposta di dieci diverse agenzie di dieci diversi creativi che propongono una pubblicità poi ovviamente su dieci solo una vince solo una viene scelta e viene incaricata per fare il lavoro e quindi viene pagata gli altri nove cosa succede gli altri nove però sono esposti perché loro hanno presentato il progetto il progetto non è stato scelto quindi non sono stati pagati si sono fatti però comunque il lavoro di presentare il progetto e nello stesso tempo il loro committente si è portato a casa dieci progetti al prezzo di uno capite? e quindi lui poi con quei dieci progetti può magari utilizzarli per altre campagne successivamente e allora onde evitare questa situazione e dare delle garanzie a coloro che partecipano a queste gare si è inventato questo meccanismo che è dell'articolo 43 scusate quindi torniamo qualora in vista dell'eventuale futuro conferimento bla 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 la presentazione di uno o più progetti creativi deve no scusate il soggetto era un utente che richiede ad un'agenzia ad una professionista la presentazione di uno o più progetti creativi deve astenersi dall'utilizzare o dal limitare dall'imitazione gli aspetti ideativi e creativi del o dei progetti non accettati o non prescelti per un periodo di tre anni dalla data del deposito quindi per un certo si lascia un certo periodo di tempo affinché colui che ha presentato il progetto ed è stato scartato possa riproporlo ad altri clienti ok perché sennò sarebbe cornuto e mazziato come dicono Napoli cioè se fatto lo sbattimento di presentare un progetto quindi ha perso delle ore di lavoro ci ha messo delle idee sue non è stato scelto quindi non viene pagato e per di più perde la possibilità di rivendersi quella stessa idea ad un altro cliente e dice per un periodo di tre anni dalla data del deposito del relativo materiale da parte dell'agenzia o del professionista interessati da effettuarsi in plico sigillato presso la servietteria dell'istituto di auto disciplina pubblicitaria secondo le modelle della stabilità del regolamento cioè l'istituto di auto disciplina pubblicitaria fa una specie di attività di presa in deposito di questi progetti cioè un po' scusate è una similitudine un po' tirata per i capelli perdonatemi però è un po' quello che fa la CIA per quanto riguarda i brani musicali cioè prendono in deposito siamo in un mondo molto diverso perché qua vedete parliamo di progetto in cui bisogna astenersi dal replicare o imitare gli aspetti ideativi o creativi cioè ideativi è la parola magica cioè il diritto d'autore non sarebbe mai arrivato a fare sta roba qua perché il diritto d'autore non può arrivare a tutelare l'abbiamo spiegato benissimo più volte non può arrivare a tutelare gli aspetti ideativi ma solo quelli creativi eccola qua la differenza questa è la la parola magica che fa che rende necessario questo questo meccanismo senza questo molti sarebbero appunto molti operatori della pubblicità sarebbero stati esposti e quindi cosa fate dovete mettere in un plico portarlo o spedirlo si sarà adesso la possibilità sicuramente di farlo anche via PEC via spedizione digitale alla segretaria dell'istituto la quale mette una data una data certa un codice di protocollo per cui da quel momento passano tre anni e nessuno per tre anni può replicare quella stessa idea creativa ok nessuno diciamo del mondo della pubblicità l'articolo 44 aggiunge quali sono diciamo gli strumenti per poter rendere efficace questa tutela avviso di protezione cioè ai fini della tutela degli elementi creativi della comunicazione commerciale cioè della pubblicità i messaggi isolati utilizzati come anticipazione o a protezione di una futura campagna di comunicazione debbano essere depositati secondo le modalità previste dal regolamento e dice che i depositi in vigore sono consultabili dentro il sito di internet dell'OIAP quindi si crea una sorta anche di archivio di idee creative quindi è interessante anche andarlo a vedere per capire come si sta evolvendo in quale direzione sta andando la pubblicità cosa intende per messaggi isolati utilizzati come anticipazione i cosiddetti slogan quelle cose che a volte sono tre parole però la Nike che dice just do it è uno slogan fortissimo tu leggi just do it ancora senza leggere Nike ormai richiami cioè ti porta alla mente ti porta alla mente il prodotto il marchio la protezione ha efficacia per un periodo di 12 mesi a far tempo dalla data di deposito e prima della scadenza può essere reiterata per una sola volta per un analogo periodo di 12 mesi ok quindi la parlava di cos'erano qua dice di astenersi per tre anni dalla data di deposito del relativo materiale per quanto riguarda i progetti dov'è i progetti creativi quindi qualcosa di più compiuto e di più ampio che devono essere non possono essere imitati negli aspetti ideativi e creativi qua invece nel 44 parla di messaggi isolati utilizzati come anticipazione o a protezione di una futura campagna di comunicazione quindi questi sono per un periodo di 12 mesi a far tempo dalla data di deposito e poi possono essere rinnovati per altri 12 mesi quindi in totale diventano 24 mesi due anni basta nel senso che questo è un po' quello che dovete sapere cioè non mi interessa in un corso che ha un orientamento diciamo sulla tutela quindi sul discorso proprietà intellettuale questo chiude un po' il cerchio poi avremo la lezione sui marchi cioè nell'ambito di questi aspetti la tutela del brand svolge un ruolo fondamentale quindi ci sarà tutto un altro pezzo di norme e principi sulla tutela del marchio e degli altri segni distintivi e della concorrenza seleale tra imprese lo vedremo però ecco per quanto riguarda il mondo della pubblicità queste norme sono interessanti però adesso cioè le slide sono finite vi volevo far vedere e queste sono sotto licenza che ha t-commerce a loro volta vi volevo far vedere invece il sito dello IAP eccolo qua il sito dello IAP che mi sembra un buon sito ha a parte la classica parte diciamo informativa conoscere lo IAP in breve con il codice che potete scaricarvi ecco le decisioni queste sono divertenti cioè qua ci sono ultimo aggiornamento 22 vuol dire che oggi ne hanno pubblicata una ieri dai cioè oggi ne hanno pubblicata una che era relativa a ieri vediamo con chi se la sono presa oh guarda che bello Vodafone e Wind che stanno litigando il giurì esaminati gli atti e sentite le parti dichiara che le comunicazioni commerciali esaminate sono in contrasto con l'articolo 2 relativamente al claim ho la rete più grande d'Italia e in questi limiti ne ordina la cessazione ah che bello l'avete visto che in questi giorni c'era lo spot in queste settimane in cui in cui si parlava della fusione tra Wind e 3 e si diceva la rete cioè il claim lo slogan era la rete più grande d'Italia che attira l'attenzione e dice ah caspita questi si sono uniti adesso hanno la rete più grande d'Italia Vodafone che invece ha sempre fatto della sua rete molto diffusa e capillare e solida il suo punto di forza ha detto scusa come la rete voi la rete più grande d'Italia e vedete ha fatto ricorso cioè ha segnalato la cosa al al giuri ecco qua la decisione poi la decisione è sotto nel senso che questo è il arrivo sì ho visto questo è tra l'altro il professor Ricolfi che io conosco molto bene il professor Ricolfi è un pezzo grosso del diritto della proprietà intellettuale che fa parte appunto del giuri guardiamone un'altra poi tenete un attimo lì le domande perché così adesso registro vediamo 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 un po' più indietro forse no vediamo questa qua dell'aceto ponti vediamo cosa è successo qua allora chi è che sta litigando la ponti spa contro quindi la ponti spa è quella la prima che si indica è quella che sta agendo contro l'altra la ponti spa contro l'acetificio denigris che non conosco però vabbè che produce l'aceto di alcol casa aceto il messaggio pubblicitario era l'aceto multiuso condisce conserva e pulisce originale numero 1 in Italia casa aceto la scelta preferita dagli italiani cosa dice il giurì il giurì esaminati gli atti e sentite le parti dichiara che la pubblicità esaminata è in contrasto con l'articolo 2 articolo 2 è quello che stabilisce quando lo stesso di prima è quando la comunicazione commerciale è ingannevole la famosa pubblicità è ingannevole è in contrasto con l'articolo 2 del codice di autodisciplina nella parte in cui non mette in adeguato rilievo che il prodotto reclamizzato è un aceto di alcol e in questi limiti ne ordina la cessazione nel senso che vabbè io non sono esperto però può essere che un conto è l'aceto naturale di vino o di mele altro conto è un aceto di alcol che quindi viene prodotto probabilmente con un con un sistema un procedimento chimico diverso ma non è che sia illecito cioè l'aceto di alcol si può vendere si può pubblicizzare liberamente però se fai l'aceto di alcol devi dire che è aceto di alcol perché sennò la gente pensa che sia un'altra cosa e quindi lo confonde con gente con l'aceto ponti che magari appunto da decenni fa l'aceto in un certo modo e si è riservato una sua fetta di mercato importante e quindi in questo aceto multiuso condisce conserva e pulisce secondo quello che dice il giurì c'era una ingannevolezza ne ho prese due a caso e ripeto però era per farvi capire poi torno indietro poi arrivo alle domande abbiate pazienza l'altra parte che mi interessava del sito era le idee depositate così vediamo la parte che è legata più alle slide se desideri vedete consulta l'elenco degli annunci di protezione per le pubblicità non ancora diffuse se desideri depositate la tua opera clicca qui però se voglio leggere ah no scopri ok scusate voglio vedere appunto l'elenco l'elenco dei depositi preemption 2020 oh vedete questi sono progetti di loghi di slogan claim testi per pubblicità che ne so di radio pubblicità radiofoniche brochure di una banca della bcc guardate quanta roba avete per il vostro lavoro cioè qua voi potete andare guardare quali sono le idee però sappiate che dalla data di decorrenza per tre anni questa roba qua non può essere replicata utilizzata perché c'è una tutela che è di quel tipo lì no energia viva IREN decorrenza dal 14 aprile questa decorrenza Armando Testa non so vediamo un altro Ferrero commerciale ecco la Ferrero caricati caricati di piacere non so se sarà può essere il pocket coffee qualcosa del genere oppure vediamo un po' vediamo la banca istituto centrale del credito cooperativo la campagna comunicazione ruota intorno al claim la banca c'è scusate la banca che c'è che diventa il messaggio chiave di una campagna di gruppo ma incentrata sulle singole bcc aderenti per ricordare la presenza sul territorio l'offerta dei servizi la solidità e bla 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 il testo sottolinea il messaggio di vicinanza ai territori e alle persone che viene espresso nel claim quindi vedete due o tre paroline la banca che c'è questa roba qua non sarebbe non potrebbe essere comunque tutelata dal diritto d'autore perché è una frasetta troppo breve e asciutta per essere opera dell'ingegno però se nessuno l'ha mai utilizzata nel mondo pubblicitario la vuole utilizzare appunto il circuito bcc e quindi per evitare che altri altre banche facciano la stessa cosa perché in effetti è un claim abbastanza efficace la banca che c'è allora l'ha depositato e vedete decorrenza dal 4-3 quindi vuol dire che per tre anni altri soggetti non possono ne avete per tutti i gusti fatevi un giro però ecco era per farvi capire di che mondo stiamo parlando secondo me questo è interessante questo è invece il ah ecco scusate questo se desideri depositare la tua idea clicca qui e ci sarà ecco vedete quindi non c'è più bisogno di depositare attraverso questo è il deposito secondo l'articolo 44 quindi non il 43 che era il primo che abbiamo visto negli esali ma il secondo il 44 regolamento per la tutela di future campagne di comunicazione ci sono i campi da riempire la società richiedente il nome del referente un po' di indirizzi e poi testo depositato max 1200 e poi potete allegare dei file d'immagine o dei file video immagino no parla solo di immagini e via dicendo ok quindi questo è interessante che ci sia che ci siano i dati per la fatturazione perché perché non sarà gratis cioè il deposito avrà un costo cioè per ogni per ogni per ogni deposito ci sarà un costo una tariffa da versare che sarà scritta da qualche altra parte del regolamento dello IAP l'ultima cosa tutti possono fare segnalazione eccolo qua potete segnalare cioè anche come come semplici utenti come semplici consumatori guardate la tv vedete una una pubblicità che vi sembra che ne so volgare che vi sembra svilente della figura della donna non rispettosa dei diritti dei minori bla 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 le varie situazioni che possono oppure ingannevole no c'è una pubblicità che voi siete non so avete avuto un cellulare wind per anni e avete sempre avuto problemi a trovare la rete a trovare connessione vedete lo slogan che dice la più grande rete d'italia e dite ma come può stare in piedi sta cosa è ingannevole allora potete senza che senza che sia Vodafone a farlo potete anche farlo voi state tranquilli che sicuramente negli uffici legali di Vodafone cioè dei vari concorrenti ci sono avvocati pagati apposta per vigilare per fare i cani da guardia di queste situazioni però ecco come cittadini come semplici utenti avete la possibilità di segnalare se secondo voi un prodotto un messaggio pubblicitario o uno spot è ingannevole quindi io adesso torno di là e chiudo la registrazione così possiamo discutere un po' insieme